operativo. Di conseguenza quello di cui volevo parlare oggi è in un certo senso la fine del primo ciclo di lezioni esoteriche e l'inizio del secondo. Quindi questo incontro fa da anello di congiunzione tra quello che è accaduto nell'anno precedente e quello che accadrà in quest'anno. E ovviamente l'aspetto principale che è stato portato anche con questa presentazione pubblica con Giovanna Galimberti e Franco Casarin della Scuola Misteriosofica. Quindi questa sarà anche un po' una presentazione di quella che è una parte della Scuola Misteriosofica, un'altra parte sarà l'euritmia, un'altra l'arte della parola, che riguarda il servizio di Tempio. E quindi io vi parlerò di quello che è il servizio di Tempio e qual è il significato che ha nel percorso lezioni esoteriche primo anno, secondo anno e poi ci sarà il terzo. Dovete sapere che dal inizio dell'attività di Steiner, quando, diciamo, siamo intorno al 1900, quando gli fu data appunto l'opportunità di guidare la società teosofica alla sezione tedesca, le cose, diciamo, l'evoluzione delle cose fu abbastanza rapida, tanto che già nel 1904-1905 gli fu data l'opportunità di aprire la sezione esoterica e di guidarla. Quindi la sezione esoterica della società teosofica sezione tedesca, che però era una sezione che, diciamo, nel suo impulso raggruppava sostanzialmente e soprattutto poi dopo, nel corso del tempo, dal 1905 fino ad arrivare al 1914 e poi successivamente in una nuova forma, raggruppava la maggioranza delle nazioni europee. Quindi questo che vi sto raccontando era qualche cosa che avveniva sostanzialmente in tutta Europa, ma aveva come centro inizialmente Berlino. Siamo nel 1905 e Steiner riceve un, si chiama patente, quindi è una sorta di certificato, dove gli viene data, gli viene affidata la guida, per quanto riguarda la Germania, di un rito massonico chiamato rito egizio, rito di Memphis Misraim. Di questo rito Steiner dice sostanzialmente non è rimasto che una scatola vuota, cioè nel corso del tempo questo rito, cercate di risalire con l'immaginazione a quando può essersi originato, nelle sue forme primordiali era qualche cosa che risaliva all'antico Egitto, nelle sue forme moderne è qualche cosa che si è andato costituendo alla metà del 1700 essenzialmente. Di conseguenza quello che è arrivato nel 1905 era qualche cosa di cui c'erano delle forme, delle strutture, ma che erano svuotate di significato, perché non c'era più la connessione vivente con quello che era il mondo spirituale. Quindi nel corso del tempo sono rimaste dei formalismi, quindi delle cerimonie che sicuramente avevano un loro significato esoterico in origine, ma che poi sono state svuotate del loro contenuto spirituale. E quindi in una lettera che Steiner scrive alla Marie von Sievers dice quello che è il nostro compito oggi è infondere una nuova vita in queste forme, in questa struttura. E quindi utilizzerà questa struttura in una forma molto trasformata per quanto riguarda la sezione esoterica della società teosofica tedesca. Soprattutto per quella che, diciamo con un termine che magari vi è più noto, sarebbe la seconda e terza classe. Quindi la prima classe essenzialmente era una serie di lezioni, lezioni esoteriche appunto, che venivano date in una cerchia relativamente ristretta, perché in realtà era ristretta in quanto era dislocata nei vari luoghi dove Steiner si spostava, in Europa, quindi c'erano i vari centri antroposofici, ma alla fine, diciamo, nel suo massimo apice, quello che era la prima classe superava i 600 membri e la seconda classe, comprendendo anche la terza, comprendeva almeno 600 membri, se non di più. Di conseguenza quello che accade è che Steiner portava la sezione esoterica prima come una forma, diciamo, operativa di quello che veniva studiato da un punto di vista, per esempio, da quello che noi chiamiamo la studio delle conferenze, quindi dei gruppi di studio, e dall'altro lato dava delle lezioni che appunto avevano questo impulso, questo punto di vista pratico su quello che era la via scientifico-spirituola-antroposofica. Questo chiunque ha letto, studiato le lezioni esoteriche o seguito il commentario alle lezioni esoteriche può capire la differente qualità e temi trattati in lezioni esoteriche piuttosto che nei cicli di conferenze. I cicli di conferenze vengono date delle grandi immagini dell'evoluzione in forma appunto molto stimolante per l'immaginazione. In quello che sono le lezioni esoteriche, nella maggioranza dei casi sono delle indicazioni pratiche o molto più secche, molto più dirette, che riguardano quello che avviene durante la pratica esoterica. E quindi in particolare nei sei esercizi fondamentali, che sono la base, sono l'inizio, gli esercizi di immaginazione, quindi quella che noi chiameremo meditazione immaginativa. Nella fattispecie abbiamo visto l'uovo azzurro, il caduceo e la rosa croce, ma in realtà vale per qualsiasi immagine sovrasensibile che si voglia ricreare interiormente e poi parla di quello che accade nei corpi sottili durante la pratica. Per questo per l'ottanta per cento delle lezioni esoteriche, quindi la stragrande maggioranza. Una volta che un membro della prima classe, quindi delle quelle che noi chiamiamo in generale lezioni esoteriche, aveva avuto, diciamo, un'esperienza, una pratica nel corso di uno o due anni, aveva la possibilità di entrare nella seconda classe. La seconda classe e poi ovviamente anche la terza avevano una natura puramente rituale cerimoniale. Questo rituale cerimoniale è appunto il rinnovamento del rito egizio del Memphis Miserim, chiamato, nell'ambito diciamo di quello che è quello che porta Steiner direttamente, il servizio di Miserim o mistica eterna. Questi due nomi, pur essendo usati in modo equivalente, non lo sono e quando faremo man mano, diciamo, parleremo di questo, capiremo la differenza. Essenzialmente il servizio di Miserim indica tutto il servizio di Tempio in generale, dove Miserim indica l'antico nome ebraico per l'Egitto, quindi sarebbe servizio egizio in sostanza, e poi capiremo il perché, brevemente perché l'Egitto eredita la sua tradizione esoterica ad Atlantide, e mistica eterna era il gran consiglio, cioè i membri della terza classe. Quindi il nome, quando si usa mistica eterna, in realtà in un senso più stretto indicherebbe coloro che facevano parte della terza classe e, diciamo, di questo consiglio direttivo, diciamo così, per capirci. Però la seconda classe, appunto, aveva 600 membri, siamo nel 1914. Questa evoluzione che ha dal 1905 al 1914, che viene portata in tutta Europa, quindi vengono allestiti dei tempi temporanei, in cui però c'era in qualche modo già l'impulso del portare un tempio effettivamente che fosse completamente dedicato, un edificio completamente dedicato a questi rituali egizi rosicruciani, quello che accade è che questo impulso viene portato in tutta Europa e unisce questi membri del, diciamo che poi faranno parte, della mistica eterna, quindi del gran consiglio della mistica eterna, in una cerchia di rappresentanti da tutta Europa. Quindi l'idea era quella di riunire rappresentanti della corrente ed è anche delle correnti esoteriche occidentali entro quello che era il servizio di tempio, il servizio di misera. In Italia, per esempio, il rappresentante di questo consiglio, di questa cerchia, di cui avete magari sentito parlare, che è nella sua, diciamo, l'aspetto più elevato, viene chiamato la cerchia dei dodici, Giovanni Colazza. Passiamo appunto al 1905, arriviamo al 1907, il momento importante del 1907 è quello del congresso di Monaco. Nel congresso di Monaco viene dato un impulso rosicruciano al rinnovamento delle arti e della cultura in generale. Lì vengono presentati i motivi artistici, architettonici, ma anche misterici, che saranno poi applicati, saranno poi realizzati nella creazione dei templi fissi del servizio di misera, del servizio di tempio. Nel 1907 compaiono infatti i sigilli apocalittici, che rappresentano, diciamo, le immagini del mondo astrale e i motivi delle colonne planetarie, che rappresentano i processi ispirativi, quindi appunto dell'ispirazione, quindi del devakan inferiore. Questo grande impulso, che non ha proprio, diciamo, il risultato sperato per quanto riguarda, come dire, l'avvio di una potente corrente in questo senso, ha però una sua, a un piccolo, piccolo seme che viene posto, che è il Tempio di Marsh, o Tempio Modello di Marsh, Tempietto di Marsh viene anche chiamato, perché in realtà non è un tempio fatto e finito, è un'immagine, un modello, un'immagine in miniatura di quello che sarebbe stato un tempio completo. E qui siamo nel 1909. Steiner lì pone la pietra di fondazione con una breve cerimonia e un mantra rituale, appunto, secondo, entro il servizio di Misraim e secondo quello che era l'impulso di Marsh, e lì nel corso del tempo poi verrà realizzato fondamentalmente di coloro che, diciamo, erano vivi al tempo, nessuno lo vedrà perché verrà completamente realizzato nella forma in cui si può vedere ancora oggi a Marsh nel 1956. Quindi, di conseguenza, questo impulso però ha un effetto. L'effetto è quello che nel 1910-11 viene costruito a Stoccarda il Tempio di Stoccarda, che era nella sede della società teosofica, poi antroposofica, e sostanzialmente era un modello Tempio di Marsh esteso. Quindi era stato realizzato, con qualche trasformazione, quello che era il modello Tempio di Marsh. Da questo impulso ne nasce un altro, che è quello della costruzione del primo Goetheanum. Quindi, prima come Johannes Bau a Monaco, e poi non avrà la possibilità di essere costruito per tutte le vicende politiche, e poi successivamente, come sulla collina di Dornac, dopo che viene donato da Gross Science la collina, cominciano i lavori di questo nuovo Tempio per, appunto, il servizio di Tempio, il Tempio dei nuovi misteri, questi misteri rinnovati dall'antichità, in forma ulteriormente metamorfosata. Quindi, dove per esempio a Marsh, chi c'è stato, ricorda essere un'unica cupola, abbiamo detto che noi dobbiamo immaginare che guardando a Est, stando a Ovest, guardando a Est, noi dobbiamo immaginare che nell'incontro di queste due correnti, che formano come un abbraccio, come un cuore, intorno al colonnato interno di Marsh, che dovrebbe essere immaginato più grande, diciamo, dell'essere umano di quanto non sia effettivamente, quindi più alto, molto più alto, queste due correnti che si incrociano nel colonnato si incontrano a Est, e a Est ci sono i due sigilli apocalittici, i due settimi sigilli apocalittici, uno della via, appunto, del nord e uno del sud. Lì avviene una metamorfosi per la quale si crea uno spazio che in Marsh è del tutto sovrasensibile, perché è un seme. Ma già a Stoccarda compare. A Stoccarda dietro l'Oriente vi era una tenda nel quale all'interno c'era un altro piccolo spazio. Quindi già ha due cupole, in realtà, anche se non pienamente formate. Ha due spazi, diciamo così, uno appunto a forma come Marsh ovale e un altro che ha una stanza retrostante l'est. Questo motivo verrà espanso nello Johannesbau, che poi non viene realizzato, e quindi nel primo Goetheanum. Di conseguenza quella che è la cupola del modello Marsh, ma anche quella di Stoccarda, sarà la grande cupola del primo Goetheanum. Quella sala, invece, che comincia a formarsi a Est, all'incontro dei due sigilli apocalittici, il settimo, perché sono uguali da entrambi i lati, viene a formarsi quella che è la piccola cupola del primo Goetheanum. Se prima lo spazio rituale, in qualche modo, e qui non possiamo, diciamo, andare troppo nei dettagli, ma se prima lo spazio rituale era costituito dalla grande cupola, quindi sia a Marsh, in senso ideale, il centro di quella grande cupola, che a Stoccarda, in senso pratico, perché effettivamente veniva praticato il servizio di Tempio, quando passiamo al primo Goetheanum, il servizio di Tempio si sposta nella piccola cupola. Di conseguenza ci sono, e questo ve lo do come accenno, visto che ho parlato alla cerchia dei dodici, dove nella grande cupola ci sono le due serie di colonne planetarie, sette, nella piccola cupola ci sono le dodici colonne della cerchia dei dodici. Ognuna delle colonne aveva un trono alla sua base, la base della colonna era foggiata a forma di trono, e lì si sarebbero seduti, in realtà si sono seduti, ma nell'ideale sarebbe stato uno sviluppo molto, diciamo, più lungo, la cerchia dei dodici per assistere ai rituali che avvenivano al centro della piccola cupola. Peraltro era stato previsto anche proprio una dinamica di questo, quindi stane avrebbero pensato anche i dettagli, avendo all'est stavolta non appunto i due sigilli apocalittici settimi, ma avendo il rappresentante dell'umanità all'Oriente. Di conseguenza potete capire la centralità di tutto questo, che nel corso della storia è andata perduta, per svariati motivi, perché nel 1914 quello che accade è che tutte quelle che erano le sezioni della seconda classe vengono chiusi per via dello scopo della prima guerra mondiale. Di conseguenza non è possibile continuare i lavori che, avendo una forma massonica, possono essere facilmente confusi con la massoneria. E siccome all'epoca le logge massoniche erano state oggetto di ricerche da parte della polizia in tutte le nazioni, Steiner, assumendosi in qualche modo la responsabilità della sezione esoterica, non poteva esporre i membri al rischio di poter essere, diciamo, coinvolti nelle ricerche riguardo politiche e, diciamo, internazionali riguardo alla prima guerra mondiale. Quindi chiude la seconda classe, ma quella che è il Gran Consiglio della Mistica Eterna, cioè la terza classe che aveva molti meno membri, continua a riunirsi sporadicamente. E poi questo si vedrà, per esempio, anche in Operano 265, appunto, ci sono delle... c'è una riunione, per esempio, di cui si parla del 1921. Tuttavia, dal 1914 al 1920, quando i membri, e soprattutto grazie all'impulso di Ita Wegman, si comincia a chiedere nuovamente di istituire la sezione esoterica, quello che accade è che Stein dice sì, si può fare con una nuova forma. Lo possiamo fare in una nuova forma, pur essendo comunque in continuità con quella passata e in forma cerimoniale, rituale. Questo cerimoniale viene anche chiamato, forse l'avete sentito parlare, culto cognitivo, perché appunto ha, diciamo, la sua base, quello che è il rituale rovesciato, così chiamato, che è un processo di cui magari vi parlerò nel corso della scuola misteriosofica, per il quale sostanzialmente quello che è il processo che viene portato nella messa, dal punto di vista del, diciamo, della successione, degli stadi che avvengono nella messa, siccome siamo fondamentalmente dopo mistero del Golgotha, viene ribaltato, e quindi si parla di culto rovesciato o culto cognitivo, perché parte dalla comunione nel pensiero, il pensare vivente. Di questo poi ne parleremo. Questa forma rinnovata compare però solo per la prima classe, che è quello che noi conosciamo come prima classe. Quindi quelle che erano le lezioni esoteriche di prima vengono trasformate in quelle che oggi viene chiamato la prima classe della Libera Università di Scienze dello Spirito. Ma dato che Steiner passa la soglia troppo presto, quindi siamo nel 1920-21, poi arriviamo al 24-25, non è stato possibile rinnovare i rituali della seconda e della terza classe. Viene esposto, per esempio, ad alcuni membri della cerchia interna, della mistica eterna, questo, diciamo, progetto. Per esempio, a Pauls Roditz, se leggete il testo di Kirsch sulla storia della prima classe, viene riportato appunto questo schema che è esattamente quello che, con qualche piccola modifica, quello che era in atto durante appunto le cerimonie del servizio di misery. Di conseguenza la divisione sarebbe stata come guida, che Rita Wegman avrebbe avuto la prima classe, la Marie von Sievers, Steiner la seconda classe e Rudolf Steiner la terza classe. Quindi loro erano i leader, diciamo, le guide nella prima, seconda e terza classe. Dopo il passaggio alla soglia di Steiner, Marie von Sievers cerca di effettivamente istituire il servizio simbolico, tanto che in opera Omnia 265 trovate la cerimonia di commemorazione della morte di Steiner, e verso la fine del testo, che è il servizio di misery, ma che i nuovi membri che nel frattempo si erano uniti all'impulso, e in particolare uno di questi, Albert Steffen, che si erano uniti a questo impulso più tardi, all'impulso del scientifico spirituale antroposofico nel corso della storia, quindi nel passaggio dal 1914 ad arrivare al 21-25, non comprendono quello che sta accadendo, perché non l'hanno vissuto da vicino, e quindi non accolgono questa proposta della Marie von Sievers Steiner. Di conseguenza da quel momento lì tutto viene sospeso e avviene, questa storia di cui avete sentito parlare del litigio, del contendersi, diciamo, della guida della sezione esoterica da parte di Ita Wegman e Marie von Sievers Steiner, che invece avrebbero dovuto collaborare, in quanto ognuna aveva un ruolo ben definito. Ma non ci addentriamo in questo, ci interessa solo sapere il perché arriviamo a non avere la seconda e la terza classe, e questo è il motivo. Il fatto che Ita Wegman e Marie von Sievers non si fossero accordate sul da farsi, perché la terza classe sarebbe stata appunto guidata da Steiner, non si arriva a un dunque, non si arriva a una metamorfosi che era a carico di Ita Wegman e Marie von Sievers, che in loro modo cercano in realtà di portarlo, lo sapete, l'Ita Wegman porta la prima classe addirittura quando viene espulsa man mano nel processo, diciamo, di questo contendersi a sezione esoterica, lei viene espulsa insieme ai suoi sostenitori e porterà poi la prima classe in Europa. E dall'altro lato l'impossibilità di procedere. Quindi Marie von Sievers si dedica soprattutto alla, diciamo, all'archivio, quindi creerà quella che noi, quindi si dedicherà con delle forze costruttive, creative a un'attività, perché creerà quella che noi chiamiamo opera omnia. Quindi consolida quello che era un patrimonio immenso, ma sicuramente molto difficile da strutturare. Quindi si dedica principalmente a questo, ma rimane il punto di domanda che la sezione esoterica rimane insoluta, rimane sospesa. La prima classe viene poi riacquisita successivamente dai discepoli della diretti della Wegman, quindi anche in seno alla società antroposofica, quindi in realtà, in certo senso, come dire, recuperando il rapporto con quello che era l'impulso della Wegman, ma della seconda e della terza classe non rimane traccia, o meglio rimane la traccia vecchia. Quindi alcuni membri che erano ancora vivi, che facevano parte del servizio di Misraim, loro continuano indipendentemente da quello che è accaduto e che vi sto raccontando. Perché, in sostanza, la questione è, non abbiamo la seconda e la terza classe, che cosa facciamo? O non la facciamo, e quindi in realtà rimane la prima classe che è sostanzialmente un'introduzione, ma non è il nucleo vitale della sezione esoterica, perché sono la terza e la seconda classe, o creiamo dei cerimoniali, dei rituali nuovi, assumendoci una responsabilità, cosa che non è stata fatta, o terza, utilizziamo quello che c'è. Utilizziamo quello che c'è e che c'è stato tramandato da Steiner fino a quel momento. E questa è la terza possibilità, che nell'ambito di quello che è servizio di tempio, possiamo esperire. Quindi, di conseguenza, non sarà chiaramente identico, tenete presente che tutte le cose vanno adattate, quindi ci sono certamente degli adattamenti, giustamente, anche perché Steiner non ha mai tenuto le cose fisse come sono, ma il processo che viene portato è lo stesso. Questo processo è un processo che va dal cosmico all'umano. Vediamo, diciamo, in generale, come il servizio di Misrim si configura da un punto di vista macrocosmico e poi microcosmico. Voi sapete che nell'evoluzione ci sono due correnti. Una prima corrente di discesa e una seconda corrente che è che nasce in seno alla prima, di ascesa. Questa prima corrente, che dai mondi spirituali va verso, quindi mondi sovrasensibili in generale, quindi possiamo dire Devakan superiore, inferiore, mondo astrale, regione eterica, mondo fisico, è quella dell'incarnazione chiamata anche colonna. Iakin. Iakin significa Dio stabilisce, fonda, e indica appunto il fatto che Dio fonda se stesso nella creazione attraverso la discesa dei mondi sovrasensibili. Quindi il divino spirituale si fa fisico-sensibile man mano. Dall'altro lato, l'altra corrente, quella che chiamiamo la colonna Boaz. e Boaz significa essenzialmente forza, significa vigore, significa il fatto che nel momento in cui il divino è disceso nel mondo fisico-sensibile, quando arriva al punto più basso, ha la possibilità di risalire ai mondi sovrasensibili, mondi spirituali, con una forza nuova, che è la forza dell'esperienza fisico-sensibile, quindi quella che chiamiamo l'esperienza terrestre. Queste sono le due colonne del Tempio. Sono le due colonne che sono presenti in tutte le cerimonie che si svolgono in un Tempio simbolico esoterico. Quindi sono presenti nella massoneria, sono presenti nei ritirosi cruciani e in altre tradizioni occidentali. Queste due colonne a volte sono in un ordine, a volte sono in un altro, ma hanno questo significato. Questo dipende poi da tutta la storia dei riti nel quale non entriamo, perché è un po' complessa, come alcuni di voi sanno bene. Di conseguenza, atteniamoci al significato che hanno. La colonna Iachin, dunque, è quella colonna che dal sovrasensibile entra nel sensibile. La colonna Boaz è quella che dal sensibile va al sovrasensibile. Questo è essenzialmente l'immagine principale che avete nel quarto sigillo apocalittico, che è quello centrale, dove appunto ci sono le due colonne. Ed è quello da cui partiamo, in qualche modo, perché l'uomo si trova da un lato ad avere un passato evolutivo, cosmico, che man mano diventa terrestre, nel quale passa da l'incoscienza più profonda, a man mano una coscienza che è una coscienza però di gruppo, dell'anima di gruppo, e poi arriva oggi ai primordi, diciamo, di una coscienza individuale autocosciente, pienamente cosciente di sé. Quella che chiamiamo le tre, diciamo, epoche di cultura centrali dell'anima sensiente, razionale e cosciente, nel quale oggi ci troviamo nell'epoca dell'anima cosciente, quindi in cui l'io si può afferrare in quanto tale attraverso il mondo fisico sensibile. Quindi siamo un po', diciamo, già spostati verso la risalita, ma attenzione, da un punto di vista, diciamo, potenziale, perché poi l'anima cosciente deve essere coltivata coscientemente. Quindi è qualche cosa che in potenza l'uomo ha, ma di cui entra in questa corrente solo se diviene cosciente della possibilità di evolvere nel senso dell'anima cosciente. Quindi finché non si è cosciente di questa possibilità, si rimane nell'anima senziente, nell'anima razionale, peraltro in forma più o meno cosciente, più o meno effettivamente attiva. La stragrande maggioranza dell'umanità, che vive, diciamo, ancora molto, per molta parte, non per tutta, ma per molta parte della sua vita, molto commista all'anima di gruppo, della famiglia o della nazione, vive soprattutto nell'anima senziente. Ma quando si comincia ad avere coscienza del fatto che si può potenziare, si può intensificare la continuità di coscienza, allora ci spostiamo dalla seconda metà dell'anima razionale verso l'anima cosciente. E quindi in qualche modo l'uomo è come se, diciamo, cominciasse a fare un po' di allenamento e riuscisse a rincorrere la corrente dell'evoluzione. Altrimenti si ritroverebbe invece un po' indietro, diciamo, in questo fluire dell'evoluzione che da cosmica diventa umana. Quindi finché non ne siamo coscienti, noi viviamo comunque nel corpo astrale e nell'anima senziente. Il divenire coscienti della possibilità di evoluzione per l'uomo occidentale è avere un anelito alla via esoterica. Questa, in un certo senso, dopo il mistero del Golgotha, può essere anche qualcosa che non è strutturato, ma sono le esperienze di vita che ti possono condurre a delle iniziazioni, parliamone così, diciamo, in generale, e quindi a delle esperienze iniziatiche che donano un'intensificazione della coscienza in alcuni ambiti della vita, soprattutto a quelle a cui ci si dedica di più, c'è chi la famiglia, c'è chi le relazioni, il lavoro, ce ne sono tanti ambiti dell'umano, ma esiste proprio un metodo. Esiste un metodo che permette sistematicamente di intensificare la coscienza nell'epoca dell'anima cosciente. Questo metodo è quello che Steiner diede con l'inaugurare la sezione esoterica occidentale. Abbiamo parlato anche del passaggio, per esempio, dei maestri teosofici e quelli antroposofici, siamo in questo ambito. Quindi diede una forma moderna per l'anima cosciente, per un metodo di evoluzione sistematico dell'anima cosciente. Comincia con i sei esercizi fondamentali, meditazione immaginativa, ingresso in quella che è la seconda e poi terza classe, in cui le cerimonie simboliche sono, e lo vedremo, da un lato una ricapitolazione di stadi passati in forma cosciente e dall'altro un'anticipazione di stadi futuri in forma cosciente. Questi stadi passati e futuri sono le metamorfosi della Terra. In conseguenza abbiamo l'antico Saturno, l'antico Sole, l'antica Luna, la Terra attuale, con la prima metà che è la Terra Marte, e la seconda che è la Terra Mercurio, in cui ci troviamo attualmente dopo il mistero del Golgotha. Abbiamo il futuro Giove, la futura Venere e infine il futuro Vulcano. Queste metamorfosi sia della Terra, del cosmo, che poi si ripercorrono individualmente a tutti i livelli, quindi potremmo dire a livello cosmico, macrocosmico, a livello invece, per esempio, di quello che sono le condizioni di vita, di forma, le ere della Terra, le epoche di cultura, e ognuno nella propria biografia. Formano dei campi di coscienza. Questi campi di coscienza abbracciano orizzontalmente quella che è l'evoluzione. Noi ci troviamo in questo quarto campo che ha due metà, qui già possiamo capire che c'è un punto di riflessione, la metà dell'anima di gruppo, la Terra-Marte, in cui appunto diciamo corpo astrale e anima senziente finché non diventiamo effettivamente coscienti rimaniamo legati, e la seconda metà che è la seconda metà dell'anima razionale e l'anima cosciente, Terra-Mercurio, in cui colui che si rende cosciente del fatto e quindi anche responsabile del fatto che può attuare un metodo per l'evoluzione interiore si colloca. Nel complesso l'umanità si trova comunque in questa fase ma è solo quando ne prendiamo coscienza e responsabilità che diveniamo effettivamente operatori in questo, quello che ci proponiamo qui con le nostre forze. quindi come sapete le falle diciamo quello che è gli stati di coscienza qui abbiamo detto l'anima di gruppo qui abbiamo l'io se risaliamo e contemporaneamente vediamo l'antica metamorfosi e il suo rispecchiamento futuro abbiamo il sogno animale che diventa dall'altro lato l'immaginazione cioè il sogno cosciente poi abbiamo il sonno vegetale e dall'altra parte abbiamo l'ispirazione il sonno che diventa cosciente cioè qui nell'immaginazione è l'immagine spirituale nell'ispirazione è il suono la parola spirituale abbiamo infine questo sonno profondo coma o trance minerale da un lato e la sua controparte cosciente che è l'intuizione che viene anche chiamato un tatto spirituale nell'umanità vi sono poi due principali tipologie quindi non solo ci sono degli stati di coscienza ma ci sono anche due principali tipologie di essere umano e di modalità dell'essere umano che in questa prima fase dell'evoluzione sono pressoché separati nella seconda fase dell'evoluzione dal mistero del Golgotha diventano parti diciamo uno dell'altro e quindi sono più delle modalità che noi attuiamo e che possiamo anche cambiare durante la nostra vita queste due modalità sono legate a Iakin e Boaz Iakin e Boaz sono anche chiamati i due alberi del paradiso i due alberi del paradiso sono l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male quindi dire albero della vita dire Iakin e dire Boaz o albero della conoscenza da questo punto di vista è lo stesso come sapete nel paradiso quello che avviene è che mangiando del frutto dell'albero della conoscenza Geova priva l'uomo Adamo ed Eva della possibilità di mangiare dell'albero della vita di continuare a mangiare perché fino a quel momento aveva mangiato dell'albero della vita ed era tutt'uno col fluire dalla vita angelica angelica divino spirituale quindi a quel momento nasce la vecchiaia la malattia e la morte che si manifestano poi progressivamente nell'evoluzione dell'umanità con quello che sono chiamati i patriarchi biblici ricorderete che hanno tutta una successione di numero di anni che va progressivamente diminuendo quindi le forze dell'albero della vita vanno progressivamente diluendosi e diminuendo nel corso dell'esistenza umana terrestre in particolare l'evento che sancisce la completa diciamo entrata dell'uomo nelle forze dell'albero della conoscenza del bene e del male che fino a quel momento erano in qualche modo latenti è quando Caino uccide Abele quindi Caino uccide Abele perché il dono di Abele questo dono del bestiame che viene sacrificato a Geova viene accettato e quello di Caino che invece è un dono vegetale che ha coltivato dal terreno non viene accettato queste due due individualità che sono anche forze che vivono dentro l'essere umano sono coloro che portano in una misura maggiore un albero le forze di un albero o l'altro colui che porta in particolare la prevalenza delle forze dell'albero della vita del frutto della vita è Abele è legato ancora alla vita divina colui che porta invece le forze principalmente dell'albero della conoscenza è Caino Caino appunto applica le sue conoscenze per trasformare il terreno l'elemento minerale in un elemento vegetale che si eleva dal basso verso l'alto Abele riproduce l'uguale è stato dato l'animale come era e solo passivamente viene cambiato ma non è qualche cosa che diciamo inizialmente viene fatto attivamente è qualche cosa che viene riprodotto continuamente in una forma simile la modalità di vita dell'allevatore di Abele e del coltivatore di Caino li pone in relazione a due forze completamente diverse quello delle forze appunto di vita Abele che sono le forze più vicine all'originale condizione dell'umanità quando era in uno stato di incoscienza paradisiaca e le forze invece di Caino che sono quelle della trasformazione dell'elemento terrestre ma fin tanto che non abbiamo passato la metà della terra da quello che era diciamo la metà in cui prevale l'anima di gruppo in quella a cui prevale l'io le forze di Caino che sono forze di trasformazione terrestre non possono avere diciamo la guida dell'evoluzione umana per questo Geova che è lo spirito della luna appunto le rifiuta le forze solari saranno rimandate nella loro azione al mistero del Golgotha quindi esistono questi questi due tipi di uomini possiamo quindi portare come immagine i loro circoli di forza immaginate che questi sono i loro circoli di forza eterica al loro interno la parte superiore è la testa il capo e abbiamo le forze invece qui del cuore in questi due tipi di essere umano la circolazione delle forze della testa e del cuore operano in un senso complementare quindi quello che possiamo immaginare è un modo per immaginarlo tenete presente questo modo per cercare di entrare nella differenza tra questi due tipi di umanità in quello che è Abele abbiamo che nella testa le forze eteriche girano in senso anti-orario seguendo la freccia voi avete che invece le forze del cuore girano in senso orario seguite il senso questo perché Abele è legato al ricevimento passivo di ispirazioni e di e di e di quelle che sono le immagini del mondo spirituale in quanto ha maggiormente le forze dell'albero della vita quindi quello che Giovanna diceva prima i due eteri che stanno più vicino alla terra l'etere della vita e l'etere del suono quindi il suo collegamento è qualche cosa che non parte da un elemento cosciente il pensiero ma parte da qualche cosa che è sognante trassognato è il sentimento è il cuore che non pensa ancora è un cuore che riceve riceve e da restituisce delle immagini perché perché il divino si rispecchia in modo sognante nel cuore di Abele e di coloro che portano più potentemente l'impulso abelita quindi ha una funzione anche interiore a noi che tutti noi in una misura o nell'altra abbiamo e può avere una la prevalenza sull'altra così come vedremo invece quella di Caino Caino all'opposto la corrente della testa del capo gira in senso orario quindi è attiva e la corrente di quello che è il cuore gira in senso anti-orario scusate anti-orario ok ok gira in senso anti-orario quindi Caino è attivo nell'elemento della conoscenza del pensiero del capo ma è passivo nell'elemento del cuore quindi sente meno le forze del cuore questi due tipi di diciamo di quando entrano nella via esoterica questi due tipi di funzioni ma anche di essere umano quando prevalgono e tenete presente che nell'antichità il legame con l'anima di gruppo era fatto in modo che ci si unisse solamente nella stirpe di Abele o nella stirpe di Caino con pochissime eccezioni di cui Steiner parlerà nell'ambito dell'Atlantide quello che avviene che si cerca di unire membri della stirpe di Abele tra di loro per preservare la connessione col divino una connessione sognante questo per esempio è Salomone che riceve l'immagine del tempio divino del tempio di Salomone dell'immagine terrestre del del divino del rapporto tra l'uomo e il divino che però non può realizzare perché gli manca la conoscenza della trasformazione dell'elemento minerale terrestre in qualche cosa che sorge dal terreno che si manifesta come il seme si manifesta nella pianta serve Caino cioè colui che sarà Iram Abif nella vicenda appunto nella leggenda del tempio che vede Salomone e Iram Abif cioè da un lato Abele Salomone dall'altro Caino Iram Abif quindi le forze del capo di Caino sono quelle che gli permettono di trasformare l'elemento terrestre in un elemento che viene attivamente portato verso l'alto quindi anche la costruzione Iram Abif è un architetto è colui che costruisce dicevo questi due tipi di potremmo dire di esoteristi in generale vengono anche chiamati il mistico e l'occultista quindi possiamo dargli anche questo nome come funzione e come tendenza in altre parole nella Bibbia per esempio troviamo le denominazioni di Abele figlio di Dio perché appunto rimane legato agli dèi e Caino figlio dell'uomo perché porterà l'elemento dell'io individuale che trasforma la Terra in tutte e due siccome la tendenza è unilaterale possiamo immaginare che esista un altro circolo questo circolo in entrambe le modalità e in entrambe le tipologie di essere umano che sono gli organi sessuali è dissipante verso l'esterno quindi il fatto di avere una maggiore tendenza verso Abele o verso Caino cioè verso il misticismo verso l'occultismo o potremmo dire verso l'ascolto la recessione passiva e dall'altro invece l'attiva produttività quando sono sbilanciate in entrambi i casi c'è una dispersione delle forze di generazione che è essenzialmente l'etere della vita di conseguenza capirete che ci deve essere un modo per poter chiudere questo altro circolo e questo modo è la stretta via di mezzo la stretta via di mezzo è la via dell'iniziazione che addirittura possiamo chiamare la terza colonna la via dell'iniziazione vive contemporaneamente nella ricapitolazione cosciente dei processi e degli stati di coscienza passati e nell'anticipazione cosciente quindi che accoglie coscientemente l'anticipazione degli stati futuri di conseguenza non è più o Abele o Caino ma è la possibilità di unire questi due processi quindi un essere umano che è sia aperto alla possibilità di ricevere intuizioni ispirazioni immaginazioni dal divino ma anche di portarne nell'elemento terrestre per la trasformazione della terra questa è in altre parole la stessa immagine che abbiamo in quello che è il caduceo col serpente scusate lo facciamo come di solito viene fatto anche se non si vede benissimo col serpente nero ci sono altre possibilità di colorazione ma non facciamo troppa confusione il serpente nero e il serpente bianco quando abbiamo fatto il primo incontro sul risorgere con lo spirito della terra abbiamo parlato appunto dell'interpretazione iniziatica del caduceo quindi volendo si può anche andare a rivedere quell'esperienza ovvero ovvero l'iniziato deve tenere conto che il passato e il futuro sono sempre compresenti nel presente che sta vivendo il famoso qui ed ora anzi il qui ed ora è generato da un incrocio tra il passato e il futuro è il passato che va verso il futuro e il futuro che va verso il passato quindi nel qui ed ora davvero quando noi riusciamo a intercettare questa coscienza mediana c'è tutto perché noi siamo in grado di riconoscere gli stati passati e gli stati futuri questa viene chiamata anche la via stretta la via dell'iniziazione se ne parla anche nel Vangelo stretta la soglia e pochi coloro che la attraverseranno nell'albero della vita della cabala è il pilastro centrale il pilastro mediano il pilastro dell'equilibrio delle forze è la via che ci proponiamo di calcare con le forze che ci sono a disposizione in una forma magari anche simbolica ma che ci aiuta a connetterci con questi stadi quindi fondamentalmente in questo immaginate di unire di unire i serpenti abbiamo l'equilibrio di queste forze che prima abbiamo trovato invece in forma estremizzata e che tutti noi abbiamo tant'è vero che seppure il nostro come dire la nostra tendenza sarebbe quella dell'unificazione e la sezione esoterica il metodo della sezione esoterica è un metodo per unificazione ma tutte le scuole occulte occidentali in questo senso lo sono in senso più ampio tenete presente che non significa poi alla fine che ognuno va per sé e vi andare cioè che ognuno una volta che ha raggiunto l'equilibrio delle forze sei indipendente vai da solo no significa che tu nell'unione delle forze potrai contribuire appunto perché è una via anche operativa interiore di esercizi la meditazione l'aspetto rituale cerimoniale ma anche esteriore nel mondo al di fuori dell'aspetto puramente esoterico che sia il tempio tempio simbolico che sia un tempio interiore dell'anima dell'uomo è l'attività è la trasformazione di attività della terra dell'elemento terrestre e per fare questo servono tante individualità che scelgono questa via e che si uniscono ognuno con avranno magari uno più esperienza con la via di Abele altri con la via di Caino ma entrambi possono collaborare e insieme formano un essere che è completo è l'idea della comunità della sesta epoca di cultura la prossima le cosiddette comunità del Graal tant'è vero che Steiner nelle quello che sono le lezioni della prima classe quelle rinnovate dirà che la scienza dello spirito è la scienza del Graal e in un altro senso dirà che quando voi avete presente per esempio ne parleremo questo nel corso della scuola misteriosofica tutte le grandi branche dell'applicazione della scienza della scuola abbiamo visto l'eurytmia stamattina l'arte della parola che peraltro sono quelle più vicine a questa sorgente ma ci sono anche per esempio l'arte l'architettura la biodinamica tutte scaturiscono da un centro vivente e questo centro vivente è la via dell'iniziazione della sezione esoterica che originariamente era terza seconda classe e la prima quindi il cuore è la terza irradia la seconda e la seconda irradia la prima questo cuore pulsante quando la scienza dello spirito si rivolge su questo cuore pulsante quindi non va verso la periferia ma il centro è come se diciamo lavorasse su se stesso cambia nome e diventa scienza dell'iniziazione questa è la via della scienza dell'iniziazione cioè della scienza dello spirito antroposofica intesa in senso iniziatico ora vi faccio vedere due aspetti che sono in relazione a quanto detto prima ovvero il fatto che c'è un momento di preparazione poi c'è la prima la seconda e la terza classe idealmente queste sono presenti su questo immagine su questo processo che noi abbiamo descritto coloro che stanno studiando la scienza dello spirito sono i cosiddetti probazionisti questo è un termine che si può utilizzare cioè sono in probazione sono in prova e quindi si trovano in questa sfera i probazionisti i probazionisti sono coloro che studiano la scienza dello spirito antroposofica quindi hanno come principale processo quello dello studio lo studio però da solo confine in un certo senso diventa poi intellettualismo quindi diventa estremamente luciferico chiude in questa bolla se non viene portato poi in un'attività pratica e per avere un'attività pratica che sia effettivamente in collegamento con i mondi sovrasensibili serve un elemento diciamo è l'atteggiamento interiore che permette di fare questo passo ulteriore è la devozione quindi la devozione ci permette di fare questo passaggio la devozione è qualche cosa che comincia a fluire dalla testa verso il cuore rende il cuore più aperto più un calice un po' come il processo di Abele nel processo di Caino noi potenziamo lo studio individuale nel processo di Abele noi cominciamo ad aprirci interiormente al mondo divino spirituale quindi anche nella vita di tutti i giorni soprattutto quando sufficientemente diciamo si è cominciato a a praticare questa devozione sorge la necessità di praticare gli esercizi fondamentali la meditazione quella che viene praticata di più la meditazione della Rosa Croce perché è data nella scienza occulta ma ne esistono altre il Caduceo l'uovo azzurro che poi sono legate ma anche le immaginazioni per esempio cosmiche che vengono portate nelle conferenze o nei testi di Steiner quindi io posso fare per esempio una meditazione immaginativa su l'antica Lemuria su l'antica Atlantide e così via anche sull'antico Egitto se voglio allora quando cominciamo a praticare in senso operativo entriamo in quella che è la prima classe della sezione esoterica ma quando le forze quando le forze del cuore effettivamente si attivano questa devozione entra e apre il cuore completamente si sente che per collegarsi ulteriormente ai mondi sovrasensibili serve un elemento che non può essere espresso né col pensiero individuale diciamo sì se ne può parlare però non è un'esperienza e nemmeno solamente con una coltivazione di un senso individuale di devozione la devozione siccome lavora le forze del cuore unisce agli altri tende ad unire tende a formare comunità pur ognuno rimanendo un individuo assolutamente pienamente cosciente di sé ha cominciato a lavorare dal pensiero e allora c'è il passaggio a quella che è la seconda classe che ha natura cerimoniale la seconda classe è composta dai primi tre gradi del servizio di Misraim primo secondo e terzo poi vedremo come si collocano a livello di stadi di coscienza questo è l'equivalente di quello che è il cosiddetto lavoro simbolico delle loggie azzurre della massoneria quindi si chiamano anche apprendista compagno e maestro ovviamente il lavoro nell'ambito della sezione esoterica portata da Steiner aveva certamente una relazione esteriore con quella che era la massoneria ma Steiner ci come ha detto più volte ci descrive che i riti rosicrucianni sono in realtà all'origine della massoneria quindi la massoneria è stato un modo per i Rosa Croce per avere un alveo in cui poi portare persone che avevano una certa qualità devozionale entro lavori dei cosiddetti alti gradi che poi sono i gradi o riti rosicruciani che poi diciamo acquisiscono la loro indipendenza totale da quella che è la massoneria poi la massoneria ha tutta una serie di evoluzioni più o meno felici e diventa totalmente simbolica si perde completamente quel senso quel significato di cui vi dicevo prima diventa essenzialmente un associazionismo con a volte un elemento filantropico quindi effettivamente che ha funzionato a volte un elemento anche ideale filosofico come si è visto per esempio nel risorgimento italiano altre volte con invece purtroppo una tendenza al potere ad utilizzare l'associazionismo come un centro di potere ma in origine non è nata così e se si leggono per esempio i rituali della massoneria non c'è scritto nulla di tutto ciò anzi ma purtroppo chiaramente noi sappiamo che una volta che lo svuoti dal contenuto spirituale può inserire qualsiasi cosa dentro quindi sono apprendista compagno e maestro una volta che si è dedicato sufficiente forze appunto a questo percorso tenete presente che la seconda classe la vedremo può essere conseguita da chiunque sia un cosiddetto uomo o donna di buona volontà cioè che impiega la propria volontà per un lavoro interiore quindi a servizio dei mondi sovrasensibili ed ecco perché si chiama servizio di misra o servizio di tempio perché è un servizio al mondo spirituale può passare alla terza classe la terza classe è divisa in due sezioni che vanno dal quarto quinto e sesto grado al settimo ottavo e nono quindi c'è una parte una prima parte e una seconda parte questa distinzione può essere vista anche sugli stati di coscienza e ora capiremo meglio come vi ho detto prima la seconda classe i tre gradi della seconda classe sono delle ricapitolazioni di antiche stati di coscienza in forma cosciente quindi noi avremo il primo grado che è una ricapitolazione in forma cosciente dell'evoluzione dalla terra fino a quello che è lo stadio lunare apprendista il secondo grado di compagno che è una ricapitolazione in forma cosciente dell'evoluzione solare e il terzo grado di maestro che è una ricapitolazione in forma cosciente dell'antico Saturno questo è il processo di ricapitolazione che gli antichi alchimisti chiamavano vitriol cioè visita interiore a terra rectificando inveniens occultam lapidem cioè scendendo nelle profondità della terra recupererai quella che è la pietra occulta cioè la pietra filosofale perché contemporaneamente come Steiner ci racconta tutte le volte che noi approfondiamo tenete presente che andiamo dall'astrale all'eterico al fisico se vogliamo salire dobbiamo scendere quindi portare la luce nell'oscurità incosciente dell'astrale dell'eterico e del fisico anche se in una forma che da un lato sarà effettivamente pratica operativa e dall'altro in parte rimarrà simbolica ma il simbolo ci permette di avere una sorta di segnaposto del percorso che si va facendo quindi esiste già la tappa dopo anche se è lì in forma simbolica quindi il processo è completo in sé ma noi ne diveniamo coscienti man mano che effettivamente lo esperiamo quindi abbiamo fatto questo processo dalla terra attuale quarto sigillo apocalittico con le due colonne e ha l'elemento del sole in mezzo quindi potremmo mettere anche il sole qua andiamo verso il passato quindi approfondiamo l'evoluzione passata dell'anima di gruppo delle incarnazioni precedenti fino all'antica luna tutto quello che è l'evoluzione cosmica del sole con le sfere planetarie il risuonale della musica delle sfere e infine il processo di morte e resurrezione come maestro quindi potremmo quindi potremmo anche dire da un altro punto di vista mondo astrale devacan inferiore devacan superiore quindi stati di coscienza che risalgono e in effetti risalgono all'origine quindi io la pietra occulta qual è? cosa accade nell'antico saturno? nell'antico saturno i troni sacrificano una parte della loro sostanzialità calorica di coraggio questo coraggio infuocato e questo coraggio infuocato è il fantoma cioè la pietra occulta è la pietra che non è una pietra è una pietra spirituale è la pietra di fondazione dell'essere umano il germe del corpo fisico che è quello che col mistero del Gogota viene restaurato nel corpo di resurrezione che invece ha a che fare con quello che accade vi ho detto il terzo grado morte e resurrezione ha a che fare con quello che è il quarto il quinto e il sesto grado di conseguenza troveremo quelli che sono la prima metà della terza classe qui quarto grado che è il cavaliere dell'arco reale di cui peraltro Steiner parla in una conferenza di opera omno 93 il quinto grado di cavaliere rosa croce è il sesto grado di cavaliere eletto Kadosh questo è il processo di anticipazione perché anticipano l'immaginazione l'ispirazione e l'intuizione facciamo un processo che assomiglia se voi lo seguite partiamo da qua torniamo indietro facciamo così torniamo qua lo seguiamo e immaginate torneremo al centro quindi è una lemniscata che viene inserita nel movimento che spontaneamente da un punto di vista naturale dell'evoluzione cosmica sarebbe solo una U noi creiamo noi creiamo da questa U la ripieghiamo su se stessa e creiamo una lemniscata che ritorna parte e ritorna sempre dal punto fondamentale dell'evoluzione terrestre che è il mistero del Golgotha quando l'Io si incarna completamente nell'astro umano è questo che rende possibile questo processo assomiglia molto a un germoglio di un fiore non so se avete notato di una pianta poi avendo il caduceo al centro chiaramente l'elevazione dell'elemento vegetale dalla terra quello di Caino il simbolo del Mercurio che è appunto il caduceo in forma diciamo semplificata peraltro il simbolo del Mercurio ci indica tutto il processo ricevere dall'alto la luna coppa trasformare l'elemento terrestre la croce quindi morte e risurrezione e al centro la possibilità di centrarsi interiormente che peraltro quando poi viene attivato completamente si trasformerà avrà un punto al centro ed è quella che poi verrà chiamata da John Dee la monade geroglifica per chi ha un interesse di questo tipo che contiene in sé tutto il processo di evoluzione ora non diciamo non lo potrete ben capire gli altri tre gradi quindi della seconda parte della terza classe dove si collocano si collocano sulla via centrale e quindi abbiamo cerchiamo di distinguerli con un colore abbiamo il settimo abbiamo l'ottavo e abbiamo il nono Steiner in sé come guida di tutta la sezione esoterica aveva il decimo grado perché era la guida della cerchia dei dodici ma questi gradi non devono essere intesi come un'autorità devono essere intesi come un'esperienza dei mondi sovrasensibili per esempio Steiner avrebbe a dire che anche la Marie von Sievers aveva un pari esperienza in forma diversa di quello che lui portava e l'Aita Wegman poi successivamente quindi è un processo che in realtà è sì gerarchico perché come Steiner ci ricorda il mondo spirituale non è democratico ma allo stesso tempo quello che si svolge entro i vari stati di coscienza l'elemento democratico entra nel fatto che chiunque abbia la volontà di proseguire sulla via può avere quelle esperienze e quindi che dedica a quelle forze fin quanto vuole fin quanto sente che questo impulso lo porta nell'esperienza dei gradi superiori tutti coloro che hanno appunto l'inizio di questo principio del lavoro esoterico della buona volontà possono conseguire questo lo dice Steiner i primi tre gradi perché sono i gradi dell'evoluzione passata quindi ci siamo passati tutti per usare un gioco di parole quindi è solo rendersene pienamente coscienti gli stati futuri sono coloro invece sono per coloro che si dedicano all'intercettare le forze che provengono dalla sesta epoca di cultura dal futuro per poter realizzare le comunità del Graal anche questi sono conseguibili ci vogliono forze di volontà quindi l'elemento democratico entra in questo senso e nel momento in cui noi facciamo questo moto all'emniscata noi andiamo a armonizzare quelle che sono le forze Abele di vita e le forze Caino di conoscenza che devono essere alla fine entrambe presenti per essere totalmente equilibrate quindi ogni grado del servizio di Tempio poi si possono fare anche delle meditazioni in Tempio che diciamo si svolgono la possibilità che tutti tutti compartecipino al di là del grado cioè coloro che hanno già il primo grado lo possono possono partecipare ma l'esperienza dei singoli gradi in ascesa è un'esperienza di stati di coscienza che man mano che saliamo dal basso dal primo andando verso l'alto diventano chiaramente sempre più qualcosa che richiedono una dedizione di forze quindi chi per esempio si dedica totalmente alla scienza dello spirito perché è un'esperienza corrisponde a un'esperienza e questa esperienza sarà in parte simbolica e in parte effettiva qui chiaramente siccome il servizio di tempio si propone di unire il contenuto alla forma non come invece in ambito spesso come accade che forma e contenuto sono completamente disaccoppiati noi ricerchiamo il ridestare quell'esperienza o passata o anticipare quella futura per l'evoluzione non di quei diciamo diciamo così di quel gruppetto che si riunisce nel tempio ma per portarla al di fuori cioè deve essere una fonte continua di ispirazioni immaginazioni intuizioni che noi portiamo al di fuori nel mondo l'obiettivo del servizio di tempio non è stare nel tempio è uscire dal tempio e quindi essere portatori di un impulso spirituale nel mondo a seconda delle forze che gli vogliamo dedicare che possiamo dedicare quindi non è una gara non c'è autorità è un venire insieme per compiere un servizio ai mondi sovrasensibili questo perché Steiner ci dice la meditazione fisicamente che abbia degli effetti benefici non importa assolutamente non è importante che abbia un effetto sul corpo che ce l'ha ma è un effetto secondario è un effetto collaterale addirittura potremmo dire l'essenziale della meditazione è che l'uomo si offre come altare a servizio del mondo spirituale e quindi dopo fare individualmente lezioni esoteriche la pratica degli esercizi fondamentali poi soprattutto della meditazione immaginativa e poi una volta che ha maturato interiormente questa decisione viene insieme ad altri che hanno maturato la stessa decisione e pratica quello che ha il servizio di tempio in cui l'essenziale non è sono tutti e in un certo senso nessuno nel senso che ognuno dei partecipanti diventa un organo di un organismo complessivo e questi organi sono i ruoli degli ufficiali cioè sono coloro che portano il rituale e coloro che membri lo esperiscono nel fluire del rituale anche loro formano degli organi questi organi possono sostituirsi perché sono ruoli ed è importante che tutti sperimentino la maggioranza dei ruoli nel corso del tempo quindi si forma un organismo in cui tutti sono essenziali nel suo funzionamento ma siccome vige anche l'elemento di libertà è possibile anche abbandonare non è che dobbiamo rimanere per forza insieme se uno cambia idea o se è un'altra missione che giunge nella sua biografia ma questo organismo ha la capacità di rimanere integro una volta che è stato formato e consolidato perché è un organismo sovrasensibile che si unisce al servizio che gli uomini fanno dalla sfera terrestre verso i mondi sovrasensibili si forma questo calice che è un graal costituito da l'essere degli stessi partecipanti dalla loro ferma coscienza da quella che è un'astralità un'etericità compenetrata progressivamente dalle forze dell'io e discende questo tredicesimo diciamo così questo spirito che si può incorporare in questo graal che viene ad essere formato che noi possiamo addirittura immaginare essere tutto questo processo che tutte le volte in nuce e man mano in atto viene ad essere manifestato vi lascio con questa immagine per ora poi la rivedremo da altri punti di vista e e quindi poi se ci sono delle domande molto valentieri tenete presente che tutto richiede una volontà cosciente quindi l'inizio di questo percorso è appunto il voler fare un passo con una volontà con una volontà cosciente verso il servizio di tempio ma se uno non lo fa a livello personale e individuale non cambia niente quindi di conseguenza non c'è neanche da dirlo ma ve lo dico lo stesso perché in realtà è importante proprio perché noi vogliamo portare una dinamica che rimanga sempre fluida tra coloro che vogliono avere delle esperienze le vogliono portare anche interiormente magari tra coloro che lo desiderano coscientemente e poi andare nel mondo invece per portare questo impulso in quelli che sono delle applicazioni specifiche i viaggi che abbiamo fatto le conferenze le esperienze i seminari eccetera eccetera quindi la dinamica è talmente ampia tra il centro e la preferia che davvero non c'è limite oltretutto non c'è limite neanche alla creatività del poter portare un impulso le forme si vengono a generare a seconda delle condizioni che sono formate che si incontrano nello spazio nel tempo e con le anime che si riuniscono